Vi hanno lasciato abbastanza soli in questa emergenza? Sì, purtroppo accade e sta accadendo troppo spesso in Costa d'Amalfi, quindi è una soluzione e bisogna prima o poi trovarla. Abbiamo avuto ovviamente dall'ANAS tutti gli enti distanti, fortunatamente con le nostre forze siamo riusciti in poco più di 36 ore a fare l'appalto, ad assicurare un intervento immediato e evitare questi disagi alla Costa d'Amalfi. Probabilmente nessuno ha capito realmente cosa è accaduto. Non è la prima volta che accade, come diceva Pocanzi, quindi dobbiamo, e già ho sollecitato gli altri sindaci, una riunione immediata, un tavolo, perché bisogna uscire da questa situazione, perché ogni volta che accadono questi eventi non si sa chi e che cosa deve fare, chi deve intervenire. I privati ovviamente dicono che sia l'ANAS, l'ANAS che dice che sono i privati, poi entra in campo il gene civile, quindi c'è una situazione di grossa ambiguità alla quale bisogna porre pur fine, perché non abbiamo più, ovviamente, energie. Siamo stati 36 ore presi da questa situazione, bene abbiamo fatto, sta avvenendo l'impresa, e pensiamo che di qui a 6-7 giorni si aprirà del tutto la strada, anche se l'impresa mi ha assicurato che per martedì si potrà sicuramente assenzi alterni, con alcuni momenti del giorno, mentre la notte si potrà già passare da martedì. Quindi ancora tre giorni di sofferenza? Tempo permettendo, sì, purtroppo più veloci di queste penso che non si possa fare, in altri casi si sono attesi tempi biblici, diciamo 15 giorni, in 36 ore iniziamo i lavori. Lei ha puntato il dito contro questa solitudine in cui è stata lasciata? Lasciati soli dagli enti, l'ANAS, ripeto, ha una posizione che non è comprensibile, io ritengo che la competenza sia dell'ANAS in questi casi. Il privato ovviamente, al di là delle condizioni economiche, certamente non può rispondere per una situazione di questo tipo, non avendo nessun reddito e non potendo utilizzare il bene, quindi mi pare che ci siano queste condizioni. La giurisprudenza su questo non è univoca, però bisogna con un tavolo far capire una volta per tutte che se succede un altro fatto di questo tipo, in 36 ore bisogna fare quello che noi siamo riusciti a fare.